Siamo in un momento dove forse la tecnologia è più diffusa che mai e non soltanto diffusa ma anche disponibile a tutti, una sorta di democratizzazione della tecnologia. Fare la vera differenza tra un prodotto e l'altro a parità di caratteristiche tecniche è l'esperienza. Grazie a queste tecnologie è possibile creare siti web app che in realtà diverse dalla nostra come in paesi di sviluppo possono fare la differenza e avere un grande impatto. L'obiettivo del Discovery Camp è stato quello di presentare ai giovani questi ruoli emergenti spiegando loro la spendibilità delle professionalità ibride e consentendo loro di mettersi alla prova, confrontarsi con le aziende di questo settore e con le richieste del mercato del lavoro.